la cia ci ha abituato alle edizioni davvero speciali e questa ha un animo black and noir qua tocchiamo un tema sofisticato entriamo in un mondo glamour e laxali guardate questo interno con questa plancia questo quadrante e comandi davvero particolari un dettaglio che non passa inosservato la caratteristica beh fuori l'avete vista questo contrasto tra la carrozzeria opaca e nero lucido e dentro questo black nero e noir che sfuma in questo grigio davvero elegante la nuova y black and noir è già in concessionaria pronta per i porti aperte del mese di maggio e la proponiamo con un'offerta bilancio dedicata ad un prezzo promozionale 9600 euro con finanziamento e completa di tutto climatizzatore radio sensori di parcheggio posteriori 156 euro con finanziamento e